espresso e il balsamo colorante e ristrutturante che ravviva il colore in soli tre minuti giusto il tempo di un caffè il ph acido consente di fissare il pigmento in profondità chiudere le squame e donare straordinaria lucentezza grazie alla presenza del keravit complesso molecolare a base di proteine vegetali ristruttura e rivitalizza il capello e rinforza la cheratina la particolare formulazione migliora l'assorbimento dei pigmenti del colore e dei principi attivi incrementa il potere condizionante aumentando la morbidezza del capello previene le abrasioni delle cuticole sigillando e compattando il capello espresso e senza ammoniaca e acqua ossigenata adatto alle persone più sensibili e facile da usare si applica dopo lo shampoo come un balsamo specifico per capelli colorati ravviva il colore tra un trattamento colorante vitality e il successivo senza agire sulla ricrescita nove splendide nuance per soddisfare ogni gusto espresso mantenimento per ravvivare la colorazione esistente per ottenere il massimo del risultato cromatico è consigliabile utilizzare la nuance di espresso più vicina alla riflessatura del colore applicato lavare e tamponare i capelli prelevare la quantità necessaria di espresso in questo caso abbiamo utilizzato la nuance rosso la quantità di prodotto varia in funzione della lunghezza e della quantità di capelli applicare espresso in modo uniforme su tutta la capigliatura distribuire uniformemente evitando il contatto con la cute pettinare e lasciare in posa tre minuti risciacquare accuratamente per eliminare i residui di espresso procedere con l'asciugatura desiderata espresso tonalizzazione per esaltare la lucentezza e la brillantezza dei biondi utilizzare le nuance dorato platino argento e latte macchiato da sole lavare e tamponare i capelli prelevare la quantità necessaria di espresso in questo caso abbiamo utilizzato la nuance latte macchiato la quantità di prodotto varia in funzione della lunghezza e della quantità di capelli applicare espresso in modo uniforme su tutta la capigliatura distribuire uniformemente evitando il contatto con la cute pettinare e lasciare in posa fino a quando la tonalizzazione non raggiunge l'intensità desiderata tempo di posa tra 1 e 5 minuti risciacquare accuratamente per eliminare i residui di espresso procedere con l'asciugatura desiderata espresso sublime per nutrire e illuminare particolarmente indicato per capelli grossi secchi e porosi l'efficacia nutriente di espresso viene amplificata dalla presenza di intensi v'acqua olio sublime garantendo riflessatura e nutrizione lavare e tamponare i capelli in una ciotola mescolare la quantità necessaria di espresso in questo caso cappuccino unito al marrone con alcune gocce di olio sublime applicare espresso sublime in modo uniforme su tutta la capigliatura distribuire con un pennello uniformemente evitando il contatto con la cute pettinare e lasciare in posa 5 minuti risciacquare accuratamente per eliminare i residui di espresso procedere con l'asciugatura desiderata con il nuovo formato in bustina da 15 ml e pratici guanti monouso espresso è pronto all'uso facile e veloce consiglia la nuance più adatta alla tua cliente per il trattamento a casa grazie 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 a tutti.